Il principe Harry e Meghan hanno partecipato al Santa Barbara Ball mercoledì sera.Il principe Harry e Meghan hanno fatto un'apparizione a sorpresa per un appuntamento notturno in un concerto mercoledì sera. La coppia ha posato per delle foto nel backstage di uno spettacolo con la cantautrice hawaiana ed ex concorrente di American Idol Paula Fuga. La signora Fuga ha poi condiviso le foto su Instagram. La cantante hawaiana si era esibita al Santa Barbara Ball mercoledì sera, insieme al collega cantautore Jack Johnson. Mattania ikkola Mattaria Mattaria Grazie a tutti. Grazie a tutti.